E anche per quest'anno Suor Maria Stella Noto accoglie gressini e animatori nell'Istituto Santa Maria Mazzarello, tappa numero 13 del nostro viaggio tra i gruppi di animazione estiva della città. Sono 165 i bambini partecipanti e la loro età è compresa tra i 4 e i 12 anni. Gli animatori sono invece 30 e la loro età va dai 12 ai 19 anni. Ispirato al racconto Zawadi, il sentiero del fuoco, tema dell'anno, i bambini sono così suddivisi in quattro squadre, leoni, serpenti, zebbre, iene, per un'avventura volta alla conoscenza e all'accoglienza del diverso. Avere questo contatto affettuoso, fraterno, familiare, materno, oserei dire, con i bambini, di modo che loro ricevano qualche, diciamo, completino la formazione iniziata in famiglia, e continuata nella scuola e speriamo perfezionata per opera dell'intervento di Don Bosco, con il sistema educativo di Don Bosco, dell'amabilità, dell'accoglienza e soprattutto della fraternità. Sono numerose le attività previste nelle calde giornate estive dei Grestini, impegnati ad organizzare uno spettacolo finale che consiste in una recita ispirata al musical La Bella e la Bestia. Noi intanto iniziamo la giornata intorno alle 9, facciamo il saluto con tutti gli animatori, su ormai a stella e ovviamente c'è anche il momento di preghiera, dopodiché ci dividiamo nelle varie attività fino intorno alle 11, dopodiché c'è l'intervallo e successivamente facciamo proprio il momento dei giochi, quindi ogni squadra avrà il suo turno per giocare, la squadra che vince avrà i propri punti assegnati e verso l'una diamo la classifica finale e dopodiché ci salutiamo di nuovo. Venerdì giorno 18, intorno alle 19, faremo questo spettacolo per mostrare ai genitori cosa fanno i bambini durante la divisione in attività, quindi ci sarà magari la palestra che mostrerà il percorso che ha fatto durante questo periodo, la danza, i balletti che mostrerà, in particolare quest'anno abbiamo pensato qualcosa di nuovo, ovvero fare uno spettacolo insieme, cioè grandi e piccini, quindi i Grestini insieme a noi animatori. Si tratta di un musical ed è il musical della Walt Disney, La Belle e la Bestia. Allegria, avventura, coraggio, accoglienza, sono questi i valori promossi dal Grest per un cammino di fratellanza religiosa che accomuna le diverse culture e tradizioni. Grazie. Grazie.